Si svolgerà domani domenica sera il Gran Galà Concerts La Musica e il Canto Lirico al Teatro Pirandello di Agrigento, organizzato da Lions Club, con in testa il vice governatore regionale Angelo Collura, che lo ha fortemente voluto e supportato dai club service della nostra provincia, che fanno parte alla nona circoscrizione. La finalità è quella di raccogliere fondi con importanti artisti che si esibiranno per la fondazione del Lions Club International, che opera in tutto il mondo. Si esibiranno il gran baritono maestro Simone Alaimo, gli allievi della sua Accademia di Palermo, Dalila Virga, Anna Alaimo, soprano Davide Sciacchitano Tenore, Vincenzo Alaimo Basso. Saranno eseguite aree d'opere antiche e canzoni popolari con l'accompagnamento al piano del maestro Porretta. L'evento sarà introdotto dal giornalista Margherita Truppiano. Oggi l'appello del vice governatore Lions, dottore Angelo Collura, a partecipare all'evento, per un gesto di solidarietà che parte dalla nostra città. Domani sera al Teatro Pirandello, alle sette e mezzo, i Lions della nona circoscrizione, abbiamo organizzato un grande evento che è il Gala Concerts, il cui ricavato verrà destinato interamente alla fondazione. La nostra fondazione, la LCAF, opera dal 1968, compie proprio 50 anni. Il Lions International si avvale della fondazione per essere concretamente presente sul territorio in ogni occasione laddove le comunità necessitano e hanno bisogno. Sicuramente la nostra circoscrizione da quelli che sono i dati che questa mattina nell'incontro operativo che abbiamo appena terminato di fare abbiamo avuto la contezza reale come il Teatro Pirandello sarà interamente pieno perché tutti i soci hanno acquistato o comunque hanno fatto acquistare il biglietto e questa è la dimostrazione che c'è un grande cuore, un grande amore per il prossimo e sicuramente sarà una serata indimenticabile. Ringrazio fin da adesso tutti quanti parteciperanno e soprattutto le istituzioni che vi faranno parte. Ringrazio fin da adesso.